Oggi vi leggo la poesia Ottobrata di Gabriele D'Annunzio. Questa poesia appartiene alla prima raccolta di D'Annunzio Primovere, è quindi un testo giovanile. Prima della ristampa, Gabriele D'Annunzio decise di fare un'operazione di marketing. Quindi prima della ristampa però farne aumentare la tiratura, il poeta fece recapitare a un giornale locale l'annuncio in cui si diceva che il giovane Gabriele D'Annunzio era morto cadendo da cavallo. Il redattore non controllò e pubblicò la notizia. La notizia e la successiva smentita fecero ovviamente aumentare l'attenzione del pubblico sulla pubblicazione imminente. Per quanto riguarda il significato del titolo, scopriamo che nella tradizione le Ottobrate erano delle feste popolari che chiudevano il periodo della vendemmia appunto nel mese di ottobre. Per celebrare il raccolto si organizzava quindi una gita fuori porta, ma da ogni rione partivano delle carrette addornate di campanacci su cui si sedevano le ragazze. I ragazzi e il resto della committiva seguiva a piedi il carro fino alla destinazione della gita. Ridono tutte in fila le linde casette nel dolce sole ottobrino. Quale colore di rosa, qual bianca, come tante comari vestite del nuovo bucato a festa. Sulle tegole brune riposano enormi zucche gialle e verdastre sembianti a dei crani spelati e sbadiglian da qualche fessura uno stupido riso almeriggio. Seduto su un uscio, un vecchietto sonnecchia pipando e un gatto nero gli dorme tra i piedi. Galline van razzolando intorno. Si sente il rumor della spola ed una culla al ritmo di lenta canzone. Poi voci fresche di bimbi, risa di donne, poi brevi silenzi. Il bel vecchietto russa, inclinato sull'omero il capo bianco nel sole. Io guardo la placida scena e dipingo. Vi ringrazio per l'ascolto, spero che la mia poesia vi sia piaciuta e vi aspetto al prossimo video. Ciao!